Io non vengo mica qua perché sono fanatico, vengo qua per vedere ragazzi che sono cresciuti e sono contenti che ci siano, ma non perché sono di fede cristiana o di fede religiosa, socialista, anzi io spererei che fosse così come mio padre, come me, che pensassero agli altri, la pavola gente. Ma io sono di una corrente religiosa molto particolare, che riguarda proprio la mia visione del... faccio conto, io mi vedo in un mare molto profondo, dove mi piace stare, poi ho anche paura, però non vedrai mai via, perché c'è una religiosità molto profonda. con una sua luce, che è la mia vita, poi. E lui suona prevalentemente, usa la musica per esprimersi. Io uso anche parole, l'espressione del viso, l'espressione dei movimenti del corpo, i movimenti del volto. Dovrei fare... per essere a un certo punto, quindi ho otto ragione io, per essere a un certo punto alla propria esistenza e sentire che ci viene donato questo, questo è un tipo di fede che mi interessa, il resto no.